Cominciamo con il tour della mia isola di Animal Crossing Il mio personaggio si chiama Letami e l'isola si chiama Tigo Per chi non lo sapesse Animal Crossing è un gioco della Nintendo Che consiste nel vivere su questa isola, decorare la propria casa e la propria isola con i propri gusti Quindi è un gioco proprio per rilassarsi e per costruire pian piano l'isola che si vuole col proprio gusto Ce ne sono veramente di tutti i tipi, anche strabelle Però oggi vi faccio vedere la mia, non gioco da tanto Però appunto sì, è un gioco in cui semplicemente il tuo scopo è costruire la tua isola e decorarla Diciamo decorare la tua isola nel bode E oggi andremo un attimo ad esplorarla e poi se vi piacerà questa tipologia di video potrei fare qualche volta un gameplay Quindi cominciamo e vi faccio vedere l'ingresso Allora, qui c'è l'aeroporto quindi se voi visitate la mia isola entrate da qui E qui c'è l'ingresso, ci ho messo questa pergola Poi andando da questa parte, qui ci sto mettendo delle rose viola E qui invece tutte delle rose bianche, qui ci sono alcune gespuglie eccetera E poi invece se entrate da qui Oh, ciao Lui mi sta sulle palle Comunque E qui ci sono tutte, tutti dei fiori E ci ho messo anche la fontana qui Questa zona mi piace molto Ed è la zona più decorata Ci ho messo anche una cascata, vedete lì dietro Carino Tornando indietro Troviamo due case Questa che è di viola, non mi ricordo E invece questa che è di un altro Ok Quindi questo è l'ingresso Andiamo a destra A destra Allora Qui appunto troviamo l'altro ingresso Dopo andremo sulla spiazza Qui abbiamo una bici E un'altra decorazione Che secondo me è molto carina Qui abbiamo un po' di cibo E un po' anche il che genera Del muschio luminoso Un po' di piante E qui ho della canna da zucchero Ho fatto una zona un po' così E non è decoratissima Però secondo me è molto carina Qui c'è la cascata di cui vi parlavo Saliamo E ok Qui è semplicemente decorativo Ok Qui ci sono due alberi da frutto E dei fiori Qui sto facendo Sto raccogliendo delle cosme rosa Ok Ok Qui io non so voi Se giocate ad Animal Crossing Dove mettiate le vostre cose Ma Cioè non Non so come Non so dove metterle Nel senso che Sono utili Siccome le pietre Eccetera Non lo so Le entrate nel magazzino Puh Qui ho alcuni alberi di bambù Che però voglio mettere meglio Tipo in siepi E qui ho il museo Molto molto Ancora da decorare Qui ci ho messo un mezzo dinosauro E dentro appunto c'è il museo Qui abbiamo una zona Coltivazione di patate E qui alcuni fiori Perché volevo far crescere tutti dei fiori Eccetera E qui è un bellissimo falò Qui ho una coltivazione di grano E qui ci ho messo questo Mi ricordo come si chiama Ok E vedete qui siamo qui Qui c'è l'area campeggio Che voglio spostare Prego un po' Molto spazio E adesso torniamo Indietro un attimo Perché vi faccio vedere Qui c'è il comune Vediamo Il comune È uguale per tutti Ecco E Sma Ok Era solo per Avere le miglia bonus Ascoltiamo un attimo Che oggetti ci sono oggi Giradischi Nintendo No Io sto aspettando Il computer Io sto appunto aspettando Il computer Che una volta Poi farò vedere Anche il tour della casa Di cui non sono soddisfatta Ma vabbè Ok Comunque Qui ci sono tutti Dei giroidi Dico non so cosa farmi E qui c'è una siepe Vedete con dei bambù Mi piace abbastanza Devo dire Qui c'è un pop up Qui ci sono le due case Che abbiamo visto prima Qui ho messo Ago e filo E anche La bottega Di nook Semplici Io ho fatto questa Piazzola Con Il recinto Normale Qui ci ho appoggiato Un po' di vestiti Per fare un'area Di ago e filo Ok Andando Verso di qua C'è La mia casetta Che vi farò vedere dopo Ciao Esatto Entraremo dopo Nella mia casetta Vi faccio solo vedere Il mio giardinetto Che è semplicemente Varie cosme Che mi piacciono molto E una piscina Ok Poi Qui di fianco Alla mia casetta Ci ho fatto Quest'altra siepe Con tutti Le alberi Da frutto Che ho Devo ringraziare Un'iscritta Che mi ha dato Tutti gli altri frutti Che non avevo E avevo solo le mele E non lo so La trovo molto carina Come cosa Mi piace Qui ho una coltivazione Di rose Un ponte E qui ho fatto Una cosa Di cui sono molto fiera Perché Ho fatto appunto Questo laghetto Con in mezzo Una statua Mi piace Scusate Mi piace Un sacco E niente Lo trovo Molto carino Ok Andando avanti Qui abbiamo Una Piazzola La devo ancora Decolare bene Qui c'è una bancarella Che devo mettere Aspettate Perché pensavo Di personalizzarla Però Vabbè Devo fare un pochino Allora Parla di attrazione Compia di ferma libri Bancarella Ok E poi Pensavo di mettere Tipo delle riviste Cioè qualcosa Per intrattenersi Quindi Qui ho Il ferma libri Che ho personalizzati Rosa E poi Pensavo di mettere La rivista Ok E al resto Vedremo Cosa c'è qui Se la scuola Non mi interessa Niente Ok E Non so Comunque Devo adeguare un po' Questa piazzola Però mi sembrava carina Magari ci metterò anche Una macchinetta Del cibo Insomma Vedremo Qui ci sono altre Casuccole Ho già fatto questo Povimento Che non mi convince Troppo E qui ci sono Appunto Un po' di case Sempre continuando Questa zona Abbiamo un po' di fiori Questa zona Che ho voluto fare Tutta gialla Queste spoli Tecnicamente Quando fioriscono Diventano gialli E Non so Mi piace carina La delle prime decorazioni Che ho fatto sull'isola Un po' di mesi fa Ormai E qui Nulla di che Vedete Ok Continuiamo Con l'isola Anzi Faccio vedere Un attimo La spiazza Ci sono le campane A caso Allora La spiazza Qui abbiamo Una parte Che mi piace Abbastanza Che è tipo L'area Giochi in spiazza Giochi in spiazza Quindi abbiamo Tutti i giochini Il Questo lato In mezzo alle palle La bambolina La macchinetta Del gelato Il cavalluzzo Il distributore Di giochi Mi piaceva Come area E Non so Mi piace E andando avanti Sempre Nell'isola Ho questa Dozzo Di cosmeo Ops Ah devo Ok Faccio una tozza E poi qui Ci ho messo Un Non si vede bene È tipo Un Cartello Con dei drink E dei drink Una panchina Qui Una decorazione Il coso Per i gelati Una pancarella Un telo Insomma Ho provato un pochino A decorare Do estraio Eccetera Ok E qui però Non ho decorato Più niente Nella Nella spiaggia Veste qui C'è il valo Di primo Torniamo di qua Di qua C'è di nuovo Un ponte Allora Questa spiaggia È poco decorata Ci ho semplicemente Messo tipo Un cinema All'aperto Perché mi sono ispirata Alle Alle isole Verano Tipo Quando Oddio Ok Quando fanno Quando Si vedono Nelle Maldive Non lo so I I cinema Che mettono Col proiettore Ecco Ci sono due macche E Il E il cartellino E qui c'è un faro Semplice Non ho ancora decorato Troppo La spiaggia Devo dire Però Molto carina Secondo me Per ora Ovviamente Non so se vi aspettavate Chissà chi Sono No Ci gioco Da pochi mesi Qui ci ho fatto Una doppia cascata E qui ci sono Vari tulipani Di diversi colori Ok Passiamo qui A un'area Che mi piace Tanto Lo so Lo so è molto scontata Però mi piace Allora qui abbiamo La cucina Forno a legna Davantino Qui si può appunto Cucinare Non cuciniamo Però vi faccio vedere Che ricettine ho Vedete Si può cucinare Un po' di cose E qui ci sono Due ingredienti Due piatti E poi qui C'è l'orticello Ovviamente C'è Aspettate Ovviamente C'è L'albero Dei soldi In mezzo Dov'è un albero Con dei frutti Vediamo Qui Ok Devo mangiare Un frutto Animal crossing Mouth sounds Ok Così Sposto L'albero Dei frutti Vi faccio un po' vedere Perché tanto Lì non cresce L'albero Dei soldi Ok Lo mettiamo Qui in mezzo Qualche parte Tanto Fra un paio di giorni Lo togliamo Lo metto qui Chi sono Albero delle stelline Così Quei puoi crescere Dicevamo Qui ho La mia area Orto E ho i pomodori Le carote E queste Non ne raccolgo Quasi Ma perché mi piacciono Così Il grano Le patate Le zucche Verdi E le zucche Arancioni Non ho ancora Le zucche Bianche Gialle Non so come trovarle Non le ho mai beccate E qui ci sono invece Delle zucche Che di solito Prendo Qui Qui c'è C'è l'altra parte Dell'isola E ho messo Un vulcano Ok Saliamo Qui c'è un'altra Coltivazione Di Canne da zucchero E Ok E qui C'è una zona Tipo Spa Relax Quindi c'è Questa piscinetta Fontana Questa fontana Ed è tutto In pietra Con questo Povimento Un po' particolare Devo dire che Può essere migliorata Però secondo me È carina E quindi Si ho messo Tutte le cose In pietra Che avevo Le ho messe qui E quando avrò Abbastanza di pietra Metterò anche L'ingresso In pietra Qui E dietro Che in realtà Vorrei mettere di fianco Ho queste rose Viola E nere E vorrei metterci Tutte le rose nere Intorno Ma quelle Stanno ancora Stanno ancora crescendo Ne ho solo due Ok Andando qui su Vedete Andiamo qui su C'è la zona Sport Anche questa zona Secondo me È carinissima E devo Aggiungere La barra Da trazioni Che non so bene Dove mettere Perché è un po' Tutto pieno Metterò qui Intanto Poi vediamo Dove metterla Se siete a scuola Lo devo vendere Non mi piace qui Però vedete Qui ci sono degli sci Una macchinetta Questo cosa Si chiama Il flip Si chiama E Un'altra La macchinetta I pesi Una palla Qui ci ha messo Una statua sportiva Il biliardino Il canestro Il biliardo Insomma Il golf La rete da pallavolo Non so Mi piace Questa zona Torniamo giù Qui ci sono un po' Di cespugli a caso Qui un laghetto Ok Tornando giù Qui andiamo in questa parte In cui non c'è praticamente nulla Qui E qui Se attraversiamo Di qua Se saltiamo Torniamo indietro Verso A casa mia Quindi no Andiamo avanti Ok Andiamo su Qui ci sono altre Due case E qui c'è la zona Che anche questa Mi piace molto Questa è la zona Tipo concerti In cui Si può suonare C'è il microfono La batteria La chitarra La chitarra La chitarra elettrica Il violoncello La tromba Il DJ set Il pianoforte Ops Il pianoforte E qui invece ci ho messo Delle sedie Però non lo so Mi sembrava Mi sembra molto carina Questa zona comunque E la trovo super cute E E qui si può attraversare Dopo saliamo In questa zona E quale Qui non è per niente Decorato E' molto vuota La mia Io sono ancora Rispetto a molte altre Però Con calma E questo è bello Qui c'è L'ultima casa E qui ci coltivo Di pomodori Che ho raccolto Salendo Troviamo La mia coltivazione Di fiori rosa Perché ho deciso Di collezionare Un po' tutti i fiori rosa E qui c'è anche Un tavolo Con una pizza Eccetera E delle lucine Carine E qui appunto Ci sono i tulipani rosa Rosa e viola I fiori E qui li faccio Anche poi Moltiplicare Fra di loro Cioè praticamente Ogni volta Ah qui devo inserire questo Ogni volta Che ne nasce uno Lo metto qui Così annaffiandoli Crescono di fianco Cioè l'isolo Praticamente Ah no scusate Qui poi Ehm Vabbè Qui ci sono I cespogli Delle cascate E qui ci sono Degli anemoli blu Con Questo Divano blu E basta E qui si torna All'area Blues E E qui si torna Al ponte Non manca Molto Alla fine Del tour Dell'isola Qui su Anche qui È praticamente Vuoto Non so bene Cosa farci Abbiamo anche qui Delle coltivazioni Di fiori Per ottenere Colori diversi Di fiori E qui ci ho fatto Una piccola zona A bo Picnic Con un telescopio Delle rose bianche Una sedia Mi sembrava Mi sembrava carina È forse la prima zona Che ho fatto Infatti è un po' rustica Non è neanche Un pavimento particolare Vedremo Qui ci sono Vari alberi Se avete Dei suggerimenti Su aree Che potrei fare Decorare Eccetera Ditemelo pure E poi Andiamo qui sotto Questa spiaggia Non c'è ancora nulla A parte Qui sto cercando Di far Crescere Le rose rosse Speciali Per far crescere Le rose blu Vedremo Se mi cresceranno Però intanto Mi è cresciuta Una rosa arancione Che non avevo Quindi ok E per quanto è carina L'abbinamento Rosa 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 E rosa gialla Bellissimi Stanno benissimi insieme Adeline È quella È la ragazza Che mi ha dato Tutte le verrature Eccetera E qui ci ho messo Questa cosa Molto a caso Che tipo Che cavolo è Un elettrocardiografo Un elettrocardiografo Perché non lo so Magari da qualche parte Volevo fare anche Una zona infermeria Vedremo Al massimo Dopo lo vento E qui ci sono Varie conchigliette E qui Siamo tornati In questa zona Qui c'è una conchiglia Azzurra Qui c'è Remo Eccolo qua E qui ci ho messo Semplicemente Una piscinetta E Questo tavolo Con queste luci Sempre espinandomi Un pochino Azzò che vedo Anche Quando fanno vedere Le Maldive Eccetera In cui ci sono anche Questi tavoli Privati Con Per due persone Sulla spiaggia Mi sono ispirato Un po' a quello E basta Qui torniamo Alla piazzetta Eccetera Eccetera L'unica parte Che non vi ho fatto Ancora vedere È di Qua È dopo casa mia Allora Qui abbiamo Degli altri fiori Sto cercando Appunto Di farli crescere Rosa E arancioni Per farlo Ho tenuto Solo Un arancione Qui Che magari Adesso Isolerò Ok Per farlo Crescere Meglio Da solo Vediamo Posso Oh no 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 uno scorpione No accidenti Aspettate che Provo a prendere Lo scorpione Ma secondo me Svecco prima Perché non lo so Prendere Ma che cavolo è Maledizione Dov'è È sparito Che noia Adesso mi punge In ogni caso Qui ho poi Delle altre cose Un gioco Delle altre tulipani Delle altre cosme Eccetera eccetera Adesso mi punge Sicuro lo scorpione E qui vedete Un po' di alberi Da soldi In cui Prendere appunto I soldi E Dovevo Piantare Piantiamolo qui O qua alla fine L'importante Che possa poi Far crescere Degli altri Intorno Ok Qui un po' a caso Va bene Poi E qui Ho il mio Orticello Invece di Carote E patate Un po' a caso Però queste sono La mia fonte Di denaro Diciamo così Ok Questo era il tour Della mia isola Secondo me Caruccia Ma c'è molto Molto da fare Me la godo Entriamo Adesso Mia No Niente Ok Eccoci qua La casa mia Allora Non mi piace Il pavimento Non mi piace Il muro Mi sono sbagliata Li ho messi a caso L'unica cosa Di cui sono Veramente fiera Di questa casa È la mia zona Video Barra Live Perché ho preso Una serie da gaming Non so se si vede qui Aspettate Ok Allora ho preso Questa serie da gaming Mi fa troppo ridere No Non ti voglio Annalisa Vabbè Faremo il tour Della casa con lei Non mi interessa Ma che ti vuole Sì Va bene Dove sei Ciao Ma che ti vuole Comunque Vi stavo dicendo Qui c'è La serie da gaming Il microfono Ciao raga Il microfono Io adoro queste cose Il La ring light Aspettate Vedete Il microfono La ring light La videocamera L'altra luce Questa luce qui Viola Vi giuro Impazzisco E infatti Sto aspettando Che mi rimetta Nel computer E la postazione Youtube Eccetera E' finita Troppo carina Qui ho un mini salotto Senza tv Magari qui ci metterò Un quadro finto Vedremo E poi basta No nient'altro Ho un asse da stiro E un tavolo Andiamo in camera Andiamo in camera Da letto Ok La mia camera Devo dire Che è normalissima Non è brutta E' tutta Sua rosa Con questo accenno Di alberi Stranormale Ho visto In un'isola Nell'isola dei sogni Lì Che un ragazzo Aveva fatto Tutto un divanetto Con questi pezzi Quindi potrei pensare Di fare un divano rosa Così Vedremo Comunque Appunto Questa è la mia stanzetta Stranormale Ok Più che altro Non trovo Dei muri E dei pavimenti Decenti Andiamo invece Qui c'è Il bagno Il bagno Normale Non mi soddisfa Troppo Però Non lo so Sentite Qui c'è Una doccia Il water La vasca E qui c'è Tipo questo mobile Che Non lo so E' carino in sé Ma non so come inserire Quindi E qui c'è Uno specchio Proviamo a cambiare Look Ci facciamo una coda No io voglio Un accoggio Dura Come si fa Qui Guardiamo Visto che c'è caldo No Non mi piace Questo Tiki 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 Facciamo 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 una Conciatura Caruccia Sticotini No Sceni Questa No Questa Secondo me È carina Oppure Proviamo C'è anche Questa Per più Questa Devo dire Ok Teniamo Questa I capelli Non ci sono Viola Purtroppo Quindi Li faremo Rosa Io comunque Sono violetto E secondo me Tra l'altro Mi assomiglia Il personaggio Mi fa troppo Rire Guardate E nulla Questo è il bagno E poi ho anche La Brava Vabbè No ma Che scemo Mi ha dato di restare Vabbè E poi vi faccio vedere La Cucina La cucina Non mi fa impazzire La cucina Abbiamo La serra Che penso Metterlo fuori Invece da qualche parte Vorrei invece fare Un Un angolino Serra fuori Vedremo dove farlo E qui ho una Mensola di Farmaci Che non so perché ho comprato È inutile Sta malissimo Qui Non ha senso Poi ho un'isola Che va in questa Carina E due Mensoline Qui c'è il microonde No Qui c'è il microonde Che non si accende E qui invece C'è la Macchinetta Del caffè E E io posso Prendere il caffè Da lì No Niente Qui ho Il Lavantino Questo è Allora Un lavantino Da bagno Quindi Non ha neanche Tanto senso E qui ho Anche Il Frullatore Appoggiato Qui a caso Insomma La cucina Devo ancora Lavorarci E che Nella bottega Di Tom Menuk Veramente Lo sto trovando Tanto Ogni volta Trovo gli oggetti Un po' me Quindi Ok Posso andarmene E questa E questa Era la mia Casetta Nulla di che Secondo me Cambiando Però Povimento Un pochino Lavorandoci Vedremo È la cosa Di cui Sono un po' Meno Soddisfatta Devo dire Però Vabbè E Mi piacerebbe Magari In questa zona Non lo so Un po' lì Per farci una serra Perché Alla fine Un po' di piante Ne ho Ho tipo Ho questa pianta Tipo questa Monstera E poi mettere Un po' di muschi Un po' magari Di canne Da zucchero Anche questa pianta Di cacao Non lo so La vorrei fare Vedremo Magari la prossima Volta Durante un gameplay Andiamo anche A Pescare E Decorare Un pochino Cosa ne dite Magari la prossima Volta facciamo La serra Insieme Vedremo Insomma Ecco Adesso proprio Ho fatto vedere Semplicemente L'isola Perché mi sembrava Carino Farvela Ecco Vedere Tutto qui Prima di andare Volevo fare una cosa Volevo entrare al museo Aspettate La musica è stranellassante E prendere un caffè Perché fate i suoni Super belli Aspettate Oh Che l'uva Stanno liso Mi vai Acelera Si Prepar Prepar Ok L'amore L'amore Ok Bellissimo Che sono i primi Vediamo Basta Io direi che non ho più Niente da mostrarvi E' finita qui Spero che Questo video Vi sia Piaciuto Aspettate che Ok Spero davvero Che questo video Vi sia piaciuto E Vabbè Vi manderò la buonotte Per dire In un altro modo Però Davvero Ricordatevi di mettere Mi piace Questo video Se vi piacerà Perché E' un video un po' particolare Quindi Non tutti gli iscritti Lo guarderanno Quindi Se vi piace Se ne volete altri Fatevi sentire Alla grande Mi raccomando Perché Non so Ogni tanto Secondo me E' carino Anche per cambiare Bene Fra mezz'ora Ho la live Quindi adesso Vado Mi riposo un attimo Mi rinfresco E Vi ringrazio Di aver guardato Questo video Adesso vi do La buonanotte Ciao 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 Taddico Ciao 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 ciao